Buonasera, volevo fare una domanda al Presidente. Sì, prego. Presidente, ho saputo che la provincia ha stanziato dei fondi per dei corsi di formazione. Volevo sapere, se lei penso lo saprà, quando dovrebbero partire questi corsi? E poi volevo farle una preghiera, cioè di considerare la fascia delle donne over 50 disoccupate, che purtroppo hanno perso il posto di lavoro e che se non hanno una famiglia solida alle spalle si trovano in situazioni a dir poco tragiche, è una cosa veramente assurda, anche perché almeno qui a Bari io non ho visto che qualcuno abbia fatto qualcosa di concreto per questo problema serio delle donne over 50 disoccupate. Ora volevo sapere, in questi corsi di formazione rientrerà questa categoria? E se si rientrerà, se si può dare uno spazio notevole, insomma, alle donne? Grazie, professore, arrivederla. Grazie per il suo intervento. In realtà c'è un bando della Regione Puglia che è destinato proprio alle donne in questa fascia d'età, ma anche agli uomini, ricordiamo che ci sono donne e uomini over 50, sono ancora giovani che purtroppo usciti dal mercato è molto difficile ricollocarli. Non ci sono limiti di età. Per quanto riguarda la provincia, i bandi che sta allestendo saranno oggetto di valutazione nel prossimo mese di luglio e poi penso che dal settembre a ottobre potranno essere operativi. Però andando a cliccare anche sul sito della provincia di Bari, vedrà tutta la documentazione, perché anche questo è stato un'altra conquista di questa amministrazione provinciale, cioè il mettere a conoscenza i cittadini in tempi reali di quello che noi facciamo e quindi di aver contezza di tanto. Per quanto riguarda invece la questione dei magistrati, diciamo che ho avuto la fortuna, l'onore, il privilegio di potermi avvalere di tre grandi magistrati a costo zero, quindi senza impegno di spesa da parte della provincia e di tanto devo dare atto e ringraziare i magistrati, la magistratura, anche perché si tratta di magistrati di alto spessore, di alto livello, mi riferisco al dottor Umberto Pagano che presiede il comitato di esperti, mi riferisco allo stesso dottor Antonio Belsito, presidente uno di Cassazione e l'altro della corte d'appello di Bari, mi riferisco allo stesso dottor Barchetti che è assessore all'ambiente. Ora io credo che un'amministrazione che desideri confrontarsi anche con aspetti illegali e voglia garantire quella trasparenza e quella legalità deve approfittare della presenza, della disponibilità di magistrati che gratuitamente mettono a servizio della comunità, dell'istituzione, il proprio sapere, il proprio operato, il proprio passato. Quindi io le ringrazio e sono onorato della loro presenza. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, mi avevo chiesto qual era l'associazione di cui rappresento. Sì, è Nicola Brescia, sì. Ci siamo a Piusanto, allora noi provisori siamo stati in una chiesa della presunzione. Ogni tanto la perdiamo, evidentemente c'è qualche problema di mia. Comunque, Piusanto ed è a Iapigia. Sì, senta, non è che stavo contro il dottor Marolla, è un giorno che ti pre, per dire, per esforzare parole sulla gazzetta, che esiste una bella realtà su Iapigia e si è mosso in tal senso ad aiutare le famiglie di disagiare. Solamente è quello che volevo io. Sì, no, questo lo so, però insomma, siccome mi è apparso a vostre una critica nei confronti del collega, volevo dire, se non l'ha ancora fatto, perché magari non aveva lo spazio materiale per poterlo fare, ma sicuramente lo farà, tra l'altro è un quotidiano che comunque è sempre molto aperto e disponibile. Noi vi ringraziamo dei vostri interventi che fate a favore di tutti i cittadini, voi giornalisti, vi ringraziamo tanto di questa bella realtà, che c'è l'opportunità di esprimerci. La ringrazio. Anzi, un'altra cosa, io con la vostra collaboratrice di Pinto, mi sto muovendo quando sotto l'aspetto dei giardini abbandonati, sia a Pisa e ovunque, e vorrei sapere quando mi ha dato in onda questo servizio. Beh, adesso questo non lo so. Per queste comunicazioni di servizio, magari è meglio che le facciamo in altri momenti, perché adesso francamente non ho proprio in mente la scaletta dei nostri telegiornali o delle nostre rubriche. Comunque, salutiamo, vogliamo l'occasione per salutare la nostra Silvia di Pinto, che è la nostra inviata sul territorio. Comunque, vedremo. Magari se ci manda una media, le faremo sapere al più presto, quando sarà trasmesso. Non so, francamente, al momento non so dare una risposta. Intanto ringraziamo, Pio Santo è l'associazione che fa capo a Nicola Brescia, molto attiva, quindi sosteniamo queste associazioni a cui va dato sicuramente l'atto di essere molto presente a sostegno delle fasce più disagiate che continuano ad aumentare, purtroppo. Stavamo parlando invece al Presidente, no, abbiamo esaurito il concetto della magistratura. Prendiamo un'altra telefonata, poi abbiamo ancora altre questioni da affrontare. Pronto? Pronto? Buonasera. Senta, signorina, vorrei farne una domanda al mio Presidente Schittulli. Prego, il Presidente di tutti, almeno della provincia di Bari. No, perché me lo sento Presidente perché so io perché. Va bene. Non indaghiamo, non indaghiamo. No, no, non c'è bisogno. Prego. Non possiamo anche portare le carti in tavolo. Presidente, io volevo chiedere un'informazione ben precisa. Sulla provinciale Sanicandro, Adesia, c'è un ponte che è stato costruito nei primi anni del Novecento. Passo Carrai, in circa 60-70 quintali. Ma le percorrono delle macchine di 300-400 quintali con tante di cartelle sia all'inizio della stradale sia all'inizio di Adesia. Ma è possibile che non si riesce a capire perché percorrono questi camion che fanno paura, addirittura, alle persone che guidano le piccole e l'utilitarie di una strada di una carregia di appena 7 metri e mezza. Va bene, grazie per il suo intervento. Ha fatto bene a segnalarcelo. Purtroppo è un intervento che dovrei chiedere, almeno con dei tanti, perché ne ho interpellati tanti, però non si è mai fatto niente. Bene, la ringrazio, perché è una segnalazione molto importante, garanzia dell'incolumità pubblica. Infatti, infatti. Grazie mille per il suo intervento. Buonasera. Sarà oggetto di valutazione, anche perché non mi è arrivata nessuna segnalazione dal sindaco di San Nicandolo, che pure è consigliere provinciale. Ah, ecco, quindi sarà un modo per tirare le orecchie. Magari non è a conoscenza anche lui, diciamo che molto spesso può accadere perché può accadere che anche qualche amministratore possa sfuggire qualche elemento, qualche criticità sul territorio. Adesso non vogliamo assolverlo, però, insomma, può essere. Va bene, poi ci farà sapere a settembre com'è andata. 0805019998. C'è una questione di cui dobbiamo parlare del ricorso al TAR presentato dall'ex direttore generale della provincia di Bari, Michele Petruzzellis, che è stato sostituito in favore di Onofio Padovano, l'attuale direttore. Michele Petruzzellis ha presentato il ricorso al TAR, oggi si è espressa la prima sezione. In che modo? Non ho nessun commento da fare rispetto alla sentenza della magistratura. Che significa? La provincia di Bari, ovviamente la provincia di Bari non è parte in causa, in questa causa, però la sentenza del TAR indirettamente, certo. Che cosa ha definito la provincia del TAR? In sintesi che era inammissibile il ricorso inoltrato, sia perché era una competenza del Presidente, sia per questioni anagrafiche, quindi ha respinto il ricorso. Quindi in sostanza la sentenza del TAR ha ballato la scelta del Presidente, insomma, della giunta provinciale che ha scelto ho optato per Onofre Padovano. Nei fatti sì. Va bene. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, io sono un'ascoltatrice affetta da cancro che fa degli esami periodicamente e in effetti posso dire che ci sono delle linee, delle corsie preferenziali perché vengano effettuati degli esami con urgenza. Io addirittura mi rivolgo in farmacia e riesco ad avere, per esempio, la TAC nel giro di meno di un mese di attesa. Sì. E' importante che però il medico di base segnali l'urgenza dell'intervento. Perfetto. Signora, se non altro da aggiungere, intanto la ringraziamo per questo intervento. No, perché io mi rendo conto che è importante per chi è affetta da questa grave malattia essere seguita senza speculazione da parte delle cliniche private. Assolutamente sì. Grazie signora per il suo intervento. Intanto è una bellissima testimonianza di solidarietà tra i nostri cittadini. Sono questi interventi che ci piacciono molto. Intanto conferma anche la tesi sempre sostenuta anche degli amministratori che si occupano di sanità che effettivamente c'è una corsia preferenziale per chi è affetto da malattie particolari, da malattie di una patologia grave come può essere indubbiamente il cancro. Per quanto riguarda l'intervento della signora, l'intervento precedente parlava più che altro di strutture convenzionate con il pubblico. Ma la stessa cosa riguarda anche il pubblico perché praticamente che succede? Che io vado dal pubblico e il pubblico mi dice guarda se questo esame ci vogliono tre mesi, se però lei lo fa privatamente qui da noi che siamo sempre convenzionati come pubblico, lo ha in dieci giorni, in un mese. E questo non mi sembra tanto corretto. Beh, ma credo che non sia proprio all'ordine del giorno una strategia, una politica in questo senso, no? Verificate, siete giornalisti.